Davanti a un carmino si bebara la panzetta gustosa di una vetta ibane. L'uomo si sa che usa il tiro di sangue di Adara. Capurano quando i bordi di Odempo si spalancano e che lo si spera meglio per il futuro. Qui in Fiumorbo a metà dell'anno 80 era l'occasione di ritrovarsi per una vedia tradizionale e di ragionare non tala vena di questo paese. E' veramente raro che in Fiumorbo e in tutta la Corsica non c'è mica saia cosa di cultura. Vedete? La giuria che ci fossero sei serate e cercate di sviluppare appena la cultura in Corsica in tutti i sensi. Altro paese, alta tradizioni. Qui, paro paese di Zalana, il Lugantone e Moidaverde. In Zalana facendo sempre avirba. Bano di casa in casa contendo per buscare roba mania. A Lepica o logo è uno di Isolino, due astuzzo, un se perso. A Birba sono i più malandati, i più ricercatati, i malati, i vestiferati dell'epoca di Aicetta, dell'età di un mese. I ricchi l'hanno istituiti un giorno per anno di fare un regalo, di fare una limousina di una serata di regalo. Qua Birba si ringraziava quelli che davano e si astimava i famigli tzecchi. A mezzanotte, i paesi di tutte le generazioni si ritrovavano per mondia e pregassero una buona nata. Una tradizione che affrancava i tempi, quella dei cartucciati. A mezzanotte, i paesi manco in l'Egetà si principia l'anno nuovo, fin d'abri. A mezzanotte, a tutti i paesi manco in l'Egetà si venuto il tempo dei vedi per la prossima. Ce soir, noi vi proposiamo, ce dei maires d'Ageccio e di Bastia, Charles Ornano e Jean Zuccaré. Mesi vedi 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 e in particolare ai più malati, ai più solitari, ai più solitari, ai più che si trovano senza lavoro, ai più che sono victime della violenza. In 2020, a nata da lezioni municipali e sicura gista tradizioni qui, un neanche a perdasì. Je terminerai par un vœu qui manque d'originalità, ma che dice bene ce qu'il vuole dire. Bon principio e miglior fine, page e salude per tutti.